Nell'ultimo giorno di calciomercato l'Aquila ha perfezionato una sola operazione in entrata. Nel pomeriggio di ieri è stato ufficializzato l'arrivo del difensore centrale Luca Bruno, giovane promessa classe 96 prelevato in prestito dal Crotone. Scuola Brescia e sinistro naturale è il terzo rinforzo invernale per la difesa dopo gli arrivi del portiere Francesco Scotti e del centrale ex pescare Emanuele Pesoli. Nelle ultime ore poi si era parlato del possibile arrivo del terzino della Salernitana Gianluca Pollace, a patto però che in uscita fosse stato piazzato il siciliano Dennis Di Mercurio. Alla fine però l'Aquila è rimasta così com'era. Sono rimasti tutti, compreso il portiere Giovanni Zandrini, che era dato in uscita sino alle ultime ore di mercato. Da Milano il direttore sportivo dei Rossoblu Alessandro Battisti ha spiegato «Non abbiamo effettuato altre operazioni perché abbiamo piena fiducia nella rosa che abbiamo composto in estate e ritoccato a gennaio. Con questi giocatori, prima di tutto uomini, lotteremo tutti insieme per accentrare la salvezza, carichi più che mai dopo la penalizzazione». Proprio sulla nuova classifica dei Rossoblu, alla luce del primo grado del processo sportivo, parla così il capocannoniere della squadra Salvatore Sandomenico, alla luce della prossima sfida contro l'Ancona. «Ora dopo la classifica che purtroppo ci ha penalizzato, ora dobbiamo guardare questi 14 punti che abbiamo e fanno i tesori e ancora tanti altri perché la salvezza è la nostra portata». «Mentalmente come si affronta una settimana del genere vedendosi sottratti tutti questi punti in classifica?» «Noi dobbiamo pensare solo al campo come abbiamo sempre fatto da sei mesi e dobbiamo pensare solo a cercare ogni domenica di vincere queste partite perché si possono vincere, perché nessuna squadra è imbattibile e nessuna squadra è scarsa. È un campionato livellato, quindi possiamo solo fare bene in questo campionato». «Chiaramente la squadra prima del singolo, però Salvatore Sandomenico quest'anno ha in doppia cifra, ci vuole arrivare?» «Sì, sì, sì. Io ho fatto finora 8 gol e 4 assist in merito di tutta la squadra, non solo me, anche perché loro mi mettono in condizione di fare gol». «Intanto, proprio in vista della sfida di sabato pomeriggio al Fattori contro l'Ancona, gli Ultras Rosso-Blu hanno tappezzato la città di Striscioni per caricare l'ambiente ed invitare quanta più gente possibile ad affluire allo stadio.